Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Aurispro delante. Oggi ragazzi è la terza parte, l'ultima del video delle challenge a casa di Aurispro. Faremo una partita di calcio con questa pallina, quella che abbiamo giocato a palapugno. Sarà un Messi contro Ronaldo. Aurispro in porta sarà Donnarumma del PSG. E io... Gli Auris. No, e io sono la ghiera del Manchester United. Ok ragazzi, siamo pronti, posizioniamo la cam e partiamo con il video. Ok ragazzi, testo a croce per chi parte in porta o tirare. Sì, arriva ai 5. Arriva ai 5. Aurispro è la croce, io sono testa. Testa. Io inizio a tirare. Com'è di questo Aurispro me lo porta a casa io perché ho vinto la sfida di palapugno. Si parte ragazzi, vado col primo tiro. Uno a zero. Uno a uno. Ragazzi è molto difficile parare, sono per tutti da dove sono io perché ho paura di farmi male. Ho due finestre dietro. Invece c'è un armadio e... Fai parte ragazzi. Su. Ronaldo. Laura. Nell'angolino alla mia destra. E l'ho detto. Due. A uno. Let's go. Me la pari. Me la pari che c'è la pancia. Due a uno. Centrale. Un po' più a destra perché la non è proprio nel centro. Lo sono me la tiri addosso. E l'ho tira a sinistra. Sì. Tre a uno. Veduto. Eh ragazzi. La palla io l'ho presa qua. Ha preso il muro e poi è andata avanti. E' la porta. Facciamo che è gol perché sono in vantaggio di farlo fare. Però poteva anche non esserlo. Perché può anche avere preso il palo. Due. Uscita. Tre a due ragazzi. Sempre forza. Ronaldo. Parto. Diro centrale in mezzo alle gambe. Chi siete? Se lo faccio. E se lo faccio. Voglio Iraq. Forza avanti. Nei commenti eh. Su. Ronaldo. Guarda. Ha fatto la bastarda che mi si piedi così. Se no lo facevo. Cos'è anche tempo. Non mi si piedi così. Non mi si piedi così. Non mi si piedi così. Scusate. Guardate. Eh ragazzi. Quattro. A due. È l'occasione di vincere. Come? Quattro euro. No. No. Sempre tre a due. Sempre tre a due. Di nuovo in mezzo alle gambe. Se lo faccio. Voglio sempre Iraq. Coman. E Iraq. Forza Dante. Con le braccia così dal silume. Tre. Due. Uno. Fiii. Maledetto. Avete visto ragazzi la finta di Ronaldo. Aia. Adesso la palla passa in mezzo alle gambe. Dai va. Non ce la fai a stare in piedi. Però è sempre gol. Ragazzi. Comandate sempre Iraq. Comando sui lanti. Dai vai. Perché anche se dovevi postare in mezzo alle gambe. Mi hai rotto al culo. Sempre golera. Dai. Qua salta no. Giù 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 giù. Non è gol dai ragazzi. Maledetto te. Siamo quattro a due per me. L'occasione di vincere. E poi all'ultimo finirà con un balletto. Di Oris Pro. Sempre fatto io perché non è capace di ballare. Vabbè. E nei commenti. E nei commenti ci dovrete dire il titolo della canzone. Dovete indovinare. Che ragazzi. Vado. Se segno. La c'è da un giro di calcio e finisce qui. Io raccomando prima. Se no. Andiamo avanti. Se passa sotto le gambe. Io raccomando sui lanti. Dai piano. Non è passato sotto le gambe. Mi ho segnato ragazzi. Ha segnato? Allora. Ora metteremo la canzone. Allora. La camera da Oris Pro che io metto la canzone. Intanto.